. Belen Rodriguez in un labirinto incantato, la foto conquista il web . Inarrestabile e sensuale, Belen Rodriguez continua a riscuotere un successo dopo laltro, dimostrando che grazie alla determinazione e al talento, ogni sogno può diventare realtà. . La showgirl argentina ha sfoggiato la nuova collezione di abiti da sposa di Alessandro Angelozzi, apparendo una sirena romantica, i fan hanno reagito con grande entusiasmo agli scatti postati sul suo profilo Instagram, paragonando Belen ad una principessa in un labirinto incantato. Belen Rodriguez in versione principessa moderna. . Capelli mossi sciolti sulle spalle, un make-up leggero, perfetto per valorizzare il suo incarnato, e un abito bianco di pizzo con lo strascico, Belen Rodriguez era la principessa di un labirinto incantato e nessuno ha saputo resistere al suo fascino. . 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